Ok, scusate, ho avviato la registrazione un po' in ritardo, stavamo commentando il testo e eravamo arrivati a commentare la parte centrale di questo algoritmo, che è il criterio di acquisto. Quindi dicevamo, quando io devo acquistare un portiere, dovrò acquistare un portiere con un budget che è disponibile e sarà di 18 milioni, perché devo poter, dopo che ho comprato il primo portiere, avere almeno ancora 2 milioni per poter comprare almeno ancora altri due portieri, sapendo, e il testo ce lo dice, che ci sono sicuramente numerosi altri portieri che costano un milione, portieri, insomma giocatori che costano un milione. Quindi sono sicuro che se io voglio comprare un milione a ciascuno ne trovo sempre, non rischio di rimanere a secco. Quindi ho una gestione del budget un pochino, è l'unica complessità, diciamo così, che c'è un po' in questo esercizio. Quindi il primo portiere lo prenderò colui che tra i portieri costa di più, minore o uguale a 18, cioè il più costoso all'interno del budget disponibile che è 18 milioni. Primo portiere. Sul secondo portiere, secondo portiere cosa faccio? Avrò il budget totale, 20, meno quanto ho speso per il primo portiere, non so, 15, 12, dipende a chi ci sarà, chi avrò scelto, meno uno perché ne devo lasciare uno disponibile per il terzo acquisto. Quindi quando acquisterò il secondo portiere avrò un budget disponibile che è dato dai 20 milioni iniziali, meno quanto ho già speso per il primo portiere, meno uno che è quello che devo lasciare per il terzo e così via. Quindi in ogni momento io so che in quel ruolo devo ancora acquistare due portieri, un portiere, quattro difensori. Se devo ancora acquistare quattro difensori, nel definire il budget che ho, dovrò tener conto che ci sono 4 milioni che non posso spendere perché mi servono dopo. Ok? E così via. L'altra regola dice che Dopo aver, ecco questo NB, dopo aver acquistato un calciatore, occorre rimuovere la vista del calciatore, va bene, a parità di quotazione, ecco qua, scusate, l'ultima riga, volevo ancora vedere con voi. Se il budget per un ruolo non è completamente consumato, quindi dopo che ho comprato i tre portieri, mi restano ancora due milioni, si può scegliere, quindi c'è scritto che va bene in entrambi i casi, se aggiungerlo al budget per il ruolo successivo oppure perderlo. Quindi vuol dire che se avessi avanzato due milioni per i portieri, potrei usare 42 milioni per i difensori, oppure, vabbè, quei due milioni lì sono persi, me li tengo in tasca, non li ho spesi e sui difensori lavoro comunque con 40 milioni. Entrambe le soluzioni dal punto di vista dell'esame, dell'articolo che viene richiesto, sono accettabili, sono equivalenti. È ovvio che la seconda è più semplice, nel senso che parto con 40 milioni senza fare un riporto di soldi da un ruolo all'altro, però non è particolarmente più complicato. Quindi vado a scalare su un budget all'interno di una categoria, quando ho finito quella categoria passo sulla categoria successiva e applico lo stesso meccanismo andando a scalare sul budget della seconda categoria. Se volessi, magari lo possiamo fare come aggiunta, vado a riportare sulla seconda categoria il budget avanzato dalla prima, se volessi. Ok? Allora, vediamo un po' come gestirlo. La prima cosa è ovviamente acquisire i dati. Acquisire i dati da questo file, che è un file non propriamente csv, perché appunto ci sono questi spazi e quindi conviene leggerlo come un file di testo normalmente separato da virgola. e come lo memorizziamo? Beh, lo possiamo memorizzare come una lista, ad esempio, di dizionari. Ciascuna riga, una lista di record, ciascuna riga è un record che ha quattro campi, questi quattro campi possono essere il nome, la squadra, il ruolo e il costo, e la squadra in realtà non ci serve, però già che ci siamo possiamo leggerla. Quindi creiamo un dizionario che rappresenti ciascuno di questi e li mettiamo tutti in una lista così come li leggiamo. Ok? Quindi possiamo creare un nuovo file di python che possiamo chiamare pantacalcio. Ok? In cui possiamo creare come prima cosa la lettura del file. Quindi magari creiamo una funzione leggi file che riceve come parametro come parametro del nome del file e mi costruisce, come dicevamo, un dizionario, una lista di dizionari. Quindi abbiamo il file come open di nome file in lettura encoding uguale utf8, non dovrebbe servire perché non ci sono le trecentate, ma lo facciamo per abitudine, file.close, così non mi dimentico, e dentro vado a leggere il file leggendo una riga per volta, quindi for riga in file e questa riga la posso separare nei vari campi separati da virgola, quindi sono i campi della riga uguale riga appunto split secondo il separatore virgola. A questo punto avendo i singoli campi posso costruire un record che rappresenta un singolo calciatore come dizionario, il dizionario che avrà quattro campi. Questi quattro campi li possiamo chiamare nome, il nome del giocatore, che sarà il primo campo e già che ci siamo possiamo applicare il metodo strip per rimuovere eventuali spazi all'inizio e alla fine del nome. Poi abbiamo il secondo campo che è la squadra, che posso estrarre campi di 1.strip, poi il terzo campo che è il ruolo, campi di 2.strip e il quarto campo che è il costo, che lo prendiamo con un numero intero di campi di 3. Questo è il record corrispondente al singolo giocatore, li mettiamo tutti in una bella lista, quindi questa lista andrà inizializzata, elenco giocatori, una lista e appena ho creato un record aggiungerò questo record all'elenco giocatori.append di record e alla fine dopo aver chiuso il file restituisco return l'elenco dei giocatori. ok? Quindi possiamo fare un primo passaggio, definiamo un main per gradi, verifichiamo la lettura del file, leggi file e qui passo il nome del file che è fantacalcio.txt e giocatori uguale e poi facciamo un print di giocatori per vedere cosa abbiamo fatto. Alla fine chiamiamo il main, ok? E proviamo a debuggare queste prime 14 righe di codice, ok? Sono già tante. Allora, facciamo run e mi stampa questa cosa qua, quindi una lista che contiene i vari dizionari a campora, a cerbi, a dopo e così via, diversa nei vari ruoli. Quindi la lettura del file ce l'abbiamo. Adesso dobbiamo cominciare a gestire gli acquisti. Allora, questo esercizio qua ha una serie di informazioni, no? Queste serie di informazioni che sono essenzialmente quanti portieri, quanti scusate, giocatori per ciascun ruolo dobbiamo comprare e anche quanti, che budget abbiamo per ciascun ruolo disponibile. Allora, questi dati qua, anche questi potremmo eventualmente memorizzarci in una struttura dati su cui poi andiamo a prendere un ruolo per volta, ok? Quindi io potrei pensare, questi dati qui della rosa essenzialmente, sulla rosa e sul budget, li possiamo mettere in un'altra lista di semplici dizionari, in modo da non dover, diciamo così, fare coppia e incolla più volte. Quindi, ad esempio nel main, noi potremmo definire, ad esempio, una struttura dati, possiamo chiamarla, diciamo che sono i ruoli, ok? Un dizionario, allora, una lista, ok? La facciamo semplice, facciamo una lista che contenga un piccolo dizionario, quindi un piccolo record per ciascun ruolo. Quindi io avrò un ruolo che è il portiere, in questo ruolo dovrò avere quanti portieri, numero, mi ne servono tre, e quanto ho di budget, venti. Ok? Poi, virgola, ho un secondo ruolo che sarà quello del, c'è scritto nel testo, difensori, andiamo a vedere esattamente come è scritto nel file difensore, ok? Portiere, difensore, quindi il secondo ruolo sarà difensore, di difensori ne devo comprare, dunque il testo mi dice che ne devo comprarne 8, il budget è 40, poi avrò un terzo record che mi dice quanti centrocampisti, quindi centrocampista è il ruolo, e ne devo comprare 8, e il budget per i centrocampisti è di, dunque, 80, quindi 8 centrocampisti per 80 milioni, e infine l'ultimo, ops, copia, incollo qua sotto, il ruolo sarà l'attaccante, attaccante, ne devo comprare di attaccanti 6 per un budget di 120 milioni, quindi 6, 120, se io quello che ho fatto mi sono costruito questa lista che contiene tutte le informazioni che servono al programma, e poi a questo punto sulla base di questa lista dovrò costruire via via la mia rosa di giocatori, la prima cosa dovrò scegliere i portieri, poi dovrò scegliere i difensori, poi dovrò scegliere i centrocampisti, poi gli attaccanti, ciascuno col suo budget, quindi potrei pensare di ragionare separatamente per ciascuno dei ruoli, e dire, ok, senti, io voglio una funzione che prenda questi parametri, prenda l'elenco dei giocatori, ovviamente andando a vedere solamente i portieri che sono all'interno di quei giocatori, e mi dica quali tre giocatori ha scelto, quindi questo potrei farlo con una funzione, scegli rosa, ok, scegli una rosa dei giocatori, a cui passo tutte le informazioni sul singolo ruolo, quindi l'info sul ruolo, magari questo qui chiamiamola info ruoli, dai, chiamiamola informazioni sui ruoli, perché non sono solamente il ruolo, sono tutte le informazioni che non sono legate a un singolo ruolo, allora ne passo uno, che sarà uno di questi record, e gli passo l'elenco dei giocatori, e lui mi restituirà i giocatori acquistati, acquistabili, con quel budget che abbiamo inserito, che abbiamo disponibile qua, io direi che conoscendo queste informazioni, e conoscendo l'elenco dei giocatori, possiamo dire quali giocatori dobbiamo comprare, e questo sarà il compito di questa funzione, questa funzione cosa può fare? Beh, prima di tutto può prendere il budget, ce l'avrà nell'info ruolo di budget, cosa sto facendo qua? Sto prendendo, sto ipotizzando di chiamare questa funzione scegli rosa, passandogli con il primo parametro, uno di questi dizionari, la prima volta lo chiamerò con i portieri, la seconda volta lo chiamerò con il difensore, e così via, ok? E quindi ho queste informazioni, in questo parametro, in questo argomento, in fuori ruolo, e poi avrò l'elenco dei giocatori, che è l'elenco completo che abbiamo letto dal file. Adesso mi vado ad estrarre le informazioni che mi servono per scegliere i portieri. Allora questo è il budget che ho a disposizione, estrago solo per comodità mia, i dati che ho già in questo dizionario, il numero che devo prendere sarà l'inforuolo di numero, per comodità mia, lo estrago da qua, e poi avrò il ruolo. I giocatori che mi interessano, non sono tutti, ma sono solamente quelli del ruolo che ho scelto, che mi hanno definito. Quindi io potrei estrarre l'elenco dei giocatori possibili, cioè tutti i portieri, andando a prendere dall'elenco dei giocatori solamente quelli che hanno il ruolo portiere. Questo ad esempio lo posso fare facilmente con una comprehension, prendendo i giocatori G for C in elenco dei giocatori, qui sto facendo una copia, creo una nuova lista in cui metto tutti gli elementi di elenco dei giocatori, aggiungendo una condizione, se il ruolo di quel giocatore G di ruolo G è il giocatore che sto aggiungendo, ruolo è lo stesso del ruolo che mi hanno chiesto, di info ruolo ruolo ok, io provo a fermarmi qua e proviamo a verificare cosa abbiamo fatto, perché queste tre istruzioni sono un pochino dense, io proverei a fare qua un print i giocatori e chiamiamo questa funzione scegli rosa per vedere che cosa fa. ok, così verifichiamo anche se non abbiamo fatto degli errori. Quindi nel main, dopo aver letto il file, quindi questo print i giocatori lo possiamo commentare, possiamo provare a chiamare scegli rosa su dei portieri, quindi ad esempio info ruoli di zero, dove ci sono i portieri. e vediamo che cosa facciamo. Questo scegli rosa, se faccio run, infatti c'è qualche errore qua, elenco, elenco, manca il secondo parametro, che sono i giocatori. Faccio run e mi fa di fatto una stampa di nuovo di un elenco di giocatori, però se la guardiamo bene, in questo elenco di giocatori ci sono solo i portieri. Ok? Perché ovviamente, avendo passato gli info ruoli di zero, contiene questo primo dizionarietto e che essendo il campo ruolo pari a portiere, in questa istruzione qua alla riga venti, sto creando una nuova lista, senza modificare quella originaria, che però contiene solamente i portieri, perché info ruolo di ruolo saranno i portieri. E quindi all'interno di questa funzione posso lavorare solamente con i portieri. Rebecca mi chiede, adrebbe bene creare liste di dizionari diversi ciascuna per ogni ruolo sin dal inizio? Liste di... Ah, sì, 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 sì. E' quello che sta dicendo Rebecca, è dire, io quando leggo il file, anziché leggere un file unico, che contiene tutti i giocatori, e poi dopo devo dividere, dammi solo i portieri, dammi solo i centrocampisti, eccetera, eccetera, lei dice, io faccio già subito quattro liste diverse. Sicuramente va bene, l'unico, diciamo così, il problema è che tu, in questo modo, come proponi tu, quando leggi il file, sei già vincolato esattamente a quattro. Quindi già devi sapere che sono quattro ruoli diversi. In questo testo ovviamente sono quattro. Però per come lo sto scrivendo io, se domani inventassimo un ruolo diverso, continua a funzionare, basta semplicemente aggiungerlo in questo dizionario dei ruoli. Ma non ci cambia ovviamente la sostanza. Francesco, perché non ti stampa qualcosa? Allora, a prima vista perché non hai chiamato la funzione main. Poi magari c'è altro, però a occhio e croce ti manca l'ultima riga del file in cui viene chiamata la funzione main. Ok. Allora, finora abbiamo fatto la parte tutto sommato facile, nel senso che qui adesso abbiamo l'elenco dei giocatori, il numero dei giocatori che ci servono, e il budget che dobbiamo spendere. Ok. Adesso creiamo questa piccola rosa di num giocatori. Quindi ne dovrò acquistare questa quantità qua. Quindi potrò a questo punto fare un ciclo, magari, in range di num. Ne devo comprare tre, anzi, ovviamente creo magari la rosa come lista a cui aggiungerò via via i giocatori che decido di scegliere. Allora, cosa devo scegliere? Devo scegliere il giocatore che ha il budget più alto, cioè il costo, scusatemi, più alto, inferiore al budget. Quindi devo trovare il massimo, diciamo così, il più costoso rispetto al budget che ho a disposizione. Attenzione che al budget che ho a disposizione devo tenere da parte un numero di milioni pare a quelli che dovrò ancora acquistare. Mi stai chiedendo su questo controllo qua, immagino, info ruolo contiene solo portiere, ma il G, visto che G itera su tutti i giocatori, sta estraendo tutti i possibili giocatori. Se io togliessi questo controllo if, avrei che la lista giocatori contiene tutti i giocatori, di tutti i ruoli. Io invece voglio copiare in questa nuova lista solamente quelli che soddisfano questa condizione, dove info ruolo, questa parte qui, vedetela come costante, quello è portiere, sono tutti i portieri. Il ruolo del singolo giocatore G, che potrebbe essere il G sta iterando su tutti i giocatori, il ruolo cambia ogni volta. Quindi questo è un portiere? Sì, lo prendo. Questo è un attaccante? No, non lo prendo. Quindi sto verificando che il valore di questo campo, degli elementi che sto copiando, sia uguale alla costante, diciamo così, che mi hanno chiesto di usare in questo modo. Spero di aver chiarito un pochino di più. Allora, devo trovare il giocatore migliore, ok? In questo caso, per questo caso. Allora, prenderò quel, faccio un piccolo ciclo, in cui prendo il massimo, non posso usare direttamente una funzione max, perché non è il massimo in assoluto, ma è il massimo inferiore al budget che ho a disposizione. Quindi mi faccio un piccolo ciclo, dunque, fatemi pensare come posso chiamare il giocatore da acquistare, vabbè, allora, chiamiamolo mio, mio uguale giocatore di zero. Cioè, mio, intendo il giocatore che sto prendendo io adesso, ok? Supponiamo di prendere il primo, poi andiamo a verificare per tutti i giocatori, porgi in giocatori, verifichiamo, in realtà questo non va tanto bene, no, facciamo così. Allora, il costo massimo, mettiamolo uguale a zero, lavoriamo, facciamo un calcolo di massimo normale, ok? Vado a prendere tutti i giocatori e vado a verificare che se il costo di questo giocatore, sto facendo un massimo, costo, scusate, il G di costo, il costo di questo giocatore è maggiore del costo massimo che ho visto finora, che ho inizializzato a zero, chiaramente come valore sentinella, allora, questo potrebbe essere, questo giocatore potrebbe essere quello che mi interessa, a questo punto, mio uguale G. Mi salvo questo mio giocatore e ovviamente aggiorno il costo max. G di costo. Ok, in questo modo io troverei dentro la variabile mio il giocatore G il cui campo costo al valore massimo in assoluto. Attenzione che non è ancora finito perché io non posso prendere quello che costa di più perché dipende dal budget che ho a disposizione. Ok? Allora, metto una condizione in più questo e il costo di questo signore sia anche minore del budget che ho a disposizione. Ok? Quindi in questo caso dico, io scelgo quello che costa di più tra quelli che costano comunque meno del mio budget. Poi, attenzione che il budget reale non è 20 ma è 18. Quindi il budget che devo considerare non è tanto il budget vero ma il budget che ho meno tanti milioni quanti sono i giocatori che dovrò ancora comprare e quanti sono i giocatori che dovrò ancora comprare sono NUM quindi i portieri erano 3 quindi la prima volta ne dovrò contare considerare che ne devo ancora comprare 2 quindi NUM meno 1 NUM era 3 3 portieri la prima volta devo tenere da parte 2 milioni la seconda volta dovrò tenere da parte 1 milione solo perché devo ancora comprare solo più un portiere quindi questo budget diciamo questa quota che devo tenere da parte rispetto al budget via via diminuisce man mano che man mano che I va avanti pensiamo ai centrocampisti che sono 8 la prima volta dovrò tenere da parte 7 milioni quando I vale 0 la seconda volta quando I vale 1 ho già scelto un giocatore sto scegliendo il secondo devo tenere da parte 6 ok quindi ogni volta avrò NUM meno 1 meno I secondo me questa è la riga più complicata di tutto il programma riuscire a capire come fare a tenere da parte questi soldi ok quindi calcolo il massimo limitandomi solo agli elementi che sono inferiore al budget che ho disponibile riservando mettendo da parte una riserva data da NUM meno 1 la prima volta NUM meno 1 meno 1 quindi meno 2 la seconda volta e così via quindi ogni volta tengo da parte una quota minore per verifica quando I vale NUM meno 1 ok che è il valore massimo che possumere I in questo range questa parentesi vale NUM meno 1 meno NUM meno 1 e quindi fa 0 questa parentesi giustamente quindi all'ultimo elemento all'ultima iterazione non metto da parte più nulla perché non ho più bisogno di riservare nulla per il futuro ok allora se il codice funziona bene come ragionamento che mi diciamo a parole come sempre a parole funziona sempre tutto non mi conviene Marco modificare direttamente la variabile NUM non mi piace modificare un parametro che ho ricevuto quindi se tu volessi prendere una variabile e decrementarla magari io ne prenderei una diversa ma perché semplicemente leggi questa riga 23 se io lego la riga 23 range NUM io so che viene eseguito un certo numero di volte NUM se poi nel frattempo NUM cambia diventa un po' un big wall tipo ma sì ma allora il range è quello di primo oppure se diminumisco il valore di NUM quel range si accorcia oppure no quindi io preferirei soprattutto quando ho delle iterazioni non andare a toccare la regola che mi do non andare a toccare dentro il ciclo di un'iterazione soprattutto se è un for le variabili che controllano l'iterazione stessa quindi I e NUM non le tocco se vuoi un'altra variabile mettere iniziale la NUM e poi decrementarla va benissimo allora budget meno 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 uno mi chiede Alexis di riragionare su questo allora io so che al primo portiere ok al primo portiere ho disponibile un budget la variabile budget mi indica 20 ok ma quando acquisto il primo portiere in realtà dovrò considerare che al massimo posso spendere 18 ah tra l'altro c'è un minore uguale qua da mettere non un minore perché fino a quella cifra la posso spendere posso spendere 18 da dove arriva questo 18? il 18 arriva da 20 che ho a disposizione meno 2 che sono i portieri che dovrò ancora acquistare in seguito ok questo 2 come lo calcolo? e beh se devo comprare 3 portieri in tutto NUM sarà NUM meno 1 fin qui poi però quando compro ok quindi ho NUM meno 1 che mi vale 2 e mi dice guarda il tuo budget sarà 20 meno 2 questo quando acquisto il primo portiere quando acquisto il secondo portiere non dovrò più tenere da parte 2 milioni perché i portieri rimanenti ancora da acquistare è solo più 1 quindi ogni volta il numero di milioni che devo tenere da parte non è più NUM meno 1 ma ogni volta si riduce di un'unità quindi prima era 2 poi diventa 1 poi diventa 0 si riduce di un'unità man mano che i si accresce di un'unità andando avanti nel range e per questo ho messo il fattore meno i quindi questo fa in modo che alla prima iterazione quando scelgo il primo portiere qui ci sia scritto budget meno 2 alla seconda iterazione quando scelgo il secondo portiere qui ci sia scritto budget meno 1 meno 1 il budget ovviamente che è rimasto meno 1 perché dopo ci sarà ancora un portiere da comprare alla terza iterazione qui ci è scritto budget meno 0 cioè posso spendere tutto il budget tanto è l'ultimo che sto acquistando ok è un po' contorto lo so infatti è il punto più contorto dell'esercizio questo Andrea nel risolvere l'esercizio ho creato una lista di tuple una per ogni ruolo composta da costo e nome del giocatore eliminando la squadra del ruolo va bene il ruolo in realtà interessa perché devi filtrare per ruolo probabilmente hai fatto delle liste diverse l'ho ordinato in ordine di crescente ho scelto il primo giocatore che diventava nel budget si va bene lo stesso io ho scelto un massimo prendendo una lista non ordinata e quindi sono andato a vedere tutti gli elementi Andrea dice ma io questa lista qua prima di tutto l'ho ordinata l'ho ordinata per costo e quindi mi è bastato andare a trovare il primo elemento che soddisfacesse questa condizione alla fine il cuore è la condizione allora se tu hai la lista ordinata basta che trovi il primo che soddisfa la condizione e sai che se è il primo è già il migliore in realtà tutta la parte del costo max non ti serve più ti basta solamente questa parte di destra della condizione il primo quindi quello sono già ordinati quindi sono già parti da quello che costa di più e il primo che trovi che costa tanto ma meno del budget disponibile lo prendi si andrà assolutamente bene anche in quel modo anche in quel modo ok io invece l'ho fatto così mi è venuto così va bene alla fine di questo ciclo for ho questa variabile mio che posso aggiungere la rosa la condizione budget meno numero meno uno l'end di rosa si l'end di rosa ha la stessa cosa di nel senso che mamma che le aggiungo ha il stesso valore numerico assolutamente quindi ho aggiunto rosa e poi ovviamente a questo punto devo decrementare il budget perché ho comprato meno il costo del mio mio di costo se vogliamo possiamo mettere una print acquisto mio budget budget con questo budget acquisto questo qua quindi vediamo che cosa fa quindi ho questo ciclo for che mi serve per calcolare il massimo per scegliere il giocatore e poi il ciclo for esterno che mi serve per contare per ripetere questa scelta del giocatore più e più volte ho ancora un dettaglio ho ancora un dettaglio che è il fatto che un giocatore una volta scelto non può essere scelto altre volte ok perché altrimenti quando scelgo un giocatore la prima volta lui me lo dà poi quando ripeto incrementando i ripeto questo ciclo for lui sceglie di nuovo un giocatore ma può darsi che scelga di nuovo lo stesso soprattutto quando sono arrivato a budget bassi può darsi che ci sia più di un giocatore e allora devo eliminarlo quindi quello che posso fare è giocatori punto remove del valore mio che ho appena aggiunto cioè questo mio lo tolgo dalla lista dei giocatori e lo aggiungo alla rosa rosa punto append sì grazie madalina mi confondo sempre perché in java in javascript si chiama add in java si chiama add in python si chiama append e in javascript si chiama push e ogni volta mi incasino facendo corsi diversi con linguaggi diversi ok allora vediamo cosa abbiamo fatto cosa abbiamo combinato il primo portiere allora budget 20 ho acquistato questo portiere che costava 18 che guarda caso è il massimo che potevo spendere poi a questo punto mi sono rimasti due infatti di budget posso acquistare questo alia che costa 1 e poi avendo un budget giro 1 acquisterò per forza un altro giocatore che costa 1 se io avessi dimenticato come inizialmente non avevo pensato a farla mettere questo remove ok e lo facessi eseguire sarebbe errato perché come vedete viene fuori due volte alia ma ovviamente questo c'era anche scritto nel testo attenzione che vanno cancellati i giocatori già presi dunque c'era Marco che mi chiedeva di mandare il codice si ve lo mando così anche se è incompleto ovviamente ok questo l'abbiamo fatto per i i portieri basta a questo punto ripetere questo scegli rosa per ogni per ogni ruolo ok e quindi posso fare un bel ciclo for ruolo info ruolo in info ruoli e qua ci metto via via il singolo elemento quindi ripeto questo scegli rosa più volte e lui mi farà prima gli acquisti dei portieri ok poi mi fa parte col budget 40 viene chiamato la seconda volta farà gli acquisti dei difensori quindi acquista a chimico un costo 33 40 meno 33 fa 7 quindi a questo momento non riesci più a trovare giocatori che costino di meno e quindi compra tutti i giocatori di costo 1 poi ho i centrocampisti ho budget 80 ho trovato quello che costa di più che era 39 me ne rimangono 41 compro un 33 41 meno 33 fa 8 e vado avanti così poi da un certo punto in avanti comprerò tutti gli scarsi da un milione e idem per gli attaccanti adesso qui ho fatto delle print dentro la funzione in realtà cosa mi chiede l'esercizio andiamo a vedere cosa devo fare esempio di output del programma deve scrivermi in modo un pochino più ordinato un pochino più ordinato i giocatori che ho scelto quindi quello che conviene fare è mettere in bella la stampa essenzialmente di questi valori io potrei magari a questo punto mi faccio restituire la rosa dalla funzione scegli rosa quindi alla fine di tutto questo questa funzione aggiungo return della rosa e tolgo questa print che ci è servito solo per capire che stava funzionando quindi la funzione scegli rosa effettivamente riceve questi parametri che abbiamo visto prima e restituisce la lista dei giocatori della la parte della rosa relativa a quel ruolo lì e allora dopo che torno nel main dopo che ho scelto questa rosa potrò stampare ad esempio il ruolo nel ruolo f string ruolo due punti info ruolo di ruolo stamperò i giocatori di quella rosa lì quindi potrò avere for g in rosa per tutti i giocatori di questa rosa stamperò il print il nome ad esempio g di nome il costo e senza andare a capo poi magari scrivo end uguale magari ci aggiungo uno spazio in fondo è uguale scusate spazio anziché ho due spazi anziché uno a capo e alla fine poi vado a capo una volta sola quindi semplicemente questa è tutta la parte diciamo così di output non facciamo più nessun calcolo in più ma semplicemente mettiamo in bella più o meno in bella insomma il risultato dove ho stampato qua ho calcolato la rosa dei portieri e ho stampato ruolo portiere e poi l'elenco dei portieri ruolo difensore l'elenco di difensori con il nome e a fianco il costo di ciascuno questo vediamo un po' se quadra con ciò che c'è scritto nel testo a parte il formato che io vado a capo e qua no però direi che 39, 33, 3, 1, 1 sono esattamente gli stessi giocatori che ci sono riportati nell'esempio ok direi che è concluso nel senso che nella versione più semplice quella in cui appunto non c'è travato di budget da un ruolo all'altro l'abbiamo risolta semplicemente ovviamente qua ho fatto delle scelte ad esempio qua nella costruzione della lista dei giocatori di quel ruolo ho usato la comprehension se voi non avete voglia non vi ricordate di usare la comprehension potete usare un append un ciclo con append va benissimo insomma le modalità sono diverse essenzialmente questa era la parte più critica appunto come dicevo riuscire a capire qual è il budget disponibile il resto mi sembrava abbastanza forse un po' contorto nella spiegazione ma non difficile nella soluzione ditemi voi a questo punto in questo elenco non c'è travaso infatti ho implementato la soluzione tenendo i budget separati quindi il budget dei portieri se avanzo io il portiere ho speso in realtà ho speso tutto sui portieri quindi andava bene così sui difensori ho speso 33 4 5 6 7 8 9 40 anche qui mi è andata bene ho speso tutto sui centrocampisti 39 più 33 fa 60 72 75 6 7 8 9 80 in questo caso in realtà non non stiamo non stiamo avanzando nulla ma questo dipende dai numeri chiaramente ok noi per 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 combinazione per come sono fatti i numeri in questo file alla fine arriviamo alla fine di un ruolo e abbiamo speso tutto il budget di quel ruolo quindi in pratica non avremmo comunque nulla da travasare sul ruolo successivo però questo non è detto non è detto che si arrivi sempre perché chiaramente dipende da quali sono i costi via via che troviamo in questo caso comunque non abbiamo non è andata bene perché non avendo comunque fatto un meccanismo di travaso del budget non ci sarebbe servito perché guarda caso i numeri erano giusti ci è andata bene in questo caso altrimenti come avremmo potuto fare vabbè avremmo potuto restituire qua non solamente la rosa ma anche il budget rimasto e poi a livello di main prendere quel budget e aggiungere e modificare il valore budget del ruolo successivo ok oppure sommarlo a quello successivo però appunto non essendo richiesto io diciamo così visto che stiamo parlando di esame il mio consiglio è sempre riprendere quando potete scegliere la via più semplice quindi non mi andrei a complicare la vita su questo allora cosa mi dice Rebecca mi dice che ho trovato esercizio in maniera differente a una ricerca del massimo quindi i giocatori che è una quotazione 1 che programma trova sono diversi è un problema no non è un problema lo dice anche il testo il testo dice a un certo punto a parità di quotazione eccolo qua a parità di quotazione non ci sono criteri su quale calciatore acquistare la scelta è libera ok quindi se ci sono dei giocatori che hanno la stessa quotazione in particolare quelli di un milione ce ne sono tanti potete scegliere quelli che volete o meglio quelli che l'algoritmo trova dipende ovviamente come calcolo il massimo come ordini la lista eccetera eccetera quindi non è un problema l'importante è che i numeri coincidano perché altrimenti se i numeri fossero sbagliati vuol dire che ha fatto gli acquisti non secondo quel criterio però i nomi specifici non sono rilevanti allora se volete vi posso a questo punto faccio che condividere anche l'intero file se qualcuno di voi ha provato a farlo ha trovato dei problemi particolari se vuole condividere abbiamo ancora una mezz'oretta volentieri per poter guardare il vostro codice capire dove vi siete bloccati che difficoltà avete avuto sempre ragionando su questo esercizio qua questa parte qua dell'info ruoli io l'ho fatta per generalità mia è una scelta mia in realtà si è andato benissimo anche bastava qua la funzione scegli rosa gli passavo direttamente tra virgolette portiere virgola 20 e poi un'altra chiamata con attaccante virgola 80 e così via non era obbligatorio me lo sono trovato ho deciso crea una struttura dati in cui ci sono tutti i dati del problema in un certo senso e poi usando questi dati a questo punto ci ho avuto molto comodo poter iterare questa singola funzione però non è obbligatorio potevate fare quattro volte prima trovo gli attaccanti tra righe di codice poi trovo i difensori tra altre tra righe di codice e così via altri commenti altre domande allora se no vi ricordo magari a questo punto vi posso lasciare il tempo chiedendovi di andare a provare a fare l'esercizio che c'è sulla parte di exercise che vedete adesso ci vuole un attimo per arrivarci che vedete nella parte del corso quindi se voi entrate nella pagina di exercise del corso trovate la solita cartella materiale didattico comune e poi questa cartella simulazione d'esame che chiamate Lab 12 sarebbe il laboratorio di questa settimana se avete un'oretta di tempo per farla la potete provare non c'è la parte di teoria c'è solamente la parte di programmazione però la differenza è che in teoria potete entrare anche qua la differenza io adesso sto entrando chiaramente con il mio account e quindi non mi obbliga ma nel vostro caso vi dovrebbe obbligare a usare il lockdown browser e qua c'è questo testo che è un testo mi pare nuovo rispetto a quelli che avete già visto che se volete provare a fare in questi giorni tra oggi e domani lo risolviamo insieme giovedì in aula il lockdown browser lo potete scaricare direttamente dal link che c'è sulla vostra pagina del portale all'inizio e se no se non lo trovate vi passo poi il link per scaricarlo dovrebbe partire nel momento in cui entrate nel quiz chi dire questo quiz si può fare solamente usando il lockdown browser che di fatto vi blocca il computer non fatelo adesso perché se no vi chiude zoom vi chiude tutto dovete farlo diciamo così offline e così verificate anche se tutto funziona correttamente usando anche il lockdown browser ok adesso qua non voglio leggere questo testo perché è bene che lo proviate a fare da soli non vi ha richiesto il lockdown browser infatti ho visto che non è richiesto neanche a me è curioso ma lo andiamo a verificare questo probabilmente qualche collega ha avuto dei casini nel disabilitato perché essendo un'area condivisa questa sembrerebbe vabbè non lo trovo non lo trovo al volo non importa vado a vedere però adesso mi informo ok e cerco di abilitare il lockdown altri dubbi altre domande mentre siamo qui va bene allora se non c'è altro ci saranno ancora altri due turni di oggi dove verranno esalti gli altri due esercizi esercizi che sono stati più votati quindi sia il turno delle 14 che il turno delle 13 scusate anche quello delle 16 ci sarà Luisa che esolverà gli altri due esercizi e così come questo verranno registrati così ovviamente non potete essere presenti a tutti i turni ma avete comunque la possibilità di avere un po' di esercizi risolti per voi e domani invece facciamo la teoria giovedì quindi facciamo questo e con qualche consiglio ultimo in vista dell'esame ok allora io direi che per oggi vi posso salutare e noi ci rivediamo sempre su queste antenne domani per le 3 ore di elezione dove appunto fatevi un po' di esercizi di teoria così avete un po' di domande da farmi o se ci sono gli esercizi di teoria in particolare che ci tenete a fare a vedere risolti e me lo dite va bene allora adesso il file ve l'ho condiviso e siamo a posto allora buona mattinata e buona continuazione ci vediamo domani a tutti ciao